Musica Stadio Comunale Mario Mattendi di Terranua Brasciolini domenica 18 febbraio ore 15, 21esima di promozione di fronte Terranua Traiana e Olimpia Palazzolo. Delicato sconto diretto in chiave salvezza Terranovessi quintultimi con 24 punti Fiorentini penultimi a quota 16. Per il Terranua Traiana un punto nelle ultime quattro giornate i ragazzi di Mister Atti non vincono dal 14 gennaio 1-0 a Parato Vecchio. Dall'altra parte il peggior attacco del girone con 13 gol all'attivo e la terza peggiore difesa del raggruppamento con 27 reti al passivo. Palazzolo che ha ottenuto in totale tre vittorie delle quali solo una in trasferta. Nella Terranua Traiana rispetto al 3-0 perso a Monte San Savino Attili recupera Gualdani Bencivenni e Sala conferma Meozzi tra i pali manda in panchina Carnicci, Chisci e Nocentini. Sul fronte opposto Mister Gabriele Bencivenni dopo lo 0-0 contro il Prato Vecchio conferma lo stesso 11 di partenza con Tortoriello in panchina scopo precauzionale. All'andata finì 1-0. Dirige l'incontro Alessio Mauro della sezione di Pistoia di Milta e meraviglia gli assistenti di linea. Campo ai limiti della praticabilità per la pioggia prattente. Pronti via e al sesto bella percussione sull'out sinistro di Francini. La sfera termina di poco sopra la traversa. Alla diciottesimo risponde l'Olimpia Palazzolo Guidotti in diagonale. Si fa trovare presente Meozzi sulla ribattuta. Sulla ribattuta ancora Guidotti ostacolato da Capitana Bartolucci si immola. Meozzi deviando in correr. Alla ventitresimo punizione da sinistra di Cuchi. Batti e ribatti in aria. Benedetto gira di poco sopra la traversa. Alla ventinovesimo pregevole azione in acrobazia di Ecuchi dal limite bella. La rovesciata del numero 8 Biancorosso para Poggi senza eccessivi patemi d'animo. Alla mezz'ora scambio Benedetto per Girolami. Sfera che arriva ad Autiero in aria il numero 7 Teranovese. Spara alto concludendo in maniera imprecisa. Alla quarantaduesimo Vestri supera sulla tre quarti Bencivenni. Punta in aria da sinistra sul primo palo. Meozzi si supera deviando in corner. Ripresa. Alla sesto Teranova subito pericoloso con Autiero. Si salva a Poggi. Sono le prove generali per il vantaggio locale. Al settimo profondità di Bencivenni. Per Benedetto tocco sotto misura e gol numero 11 per il 10 Biancorosso che sblocca il risultato. Al sedicesimo Autiero in diagonale risponde sul suo palo alla sua sinistra Poggi deviando in corner. Ancora Teranova Traiana con Benedetto da sinistra. Autiero conclude di poco sul fondo. Al trentaseiesimo arriva il pari della formazione fiorentina. Corner da destra di Guidotti. Palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Il rompe sul secondo palo Cassigoli che mette la sfera alle spalle di Meozzi e fa 1 a 1. Con ben 10 minuti a disposizione più recupero. Il terrenova Traiana non riesce a reagire e anzi rischia il ribaltamento del risultato. Al quarantaduesimo punizione a giro di Fabri da 18 metri. Palla di poco alla sinistra di Meozzi. Finisce 1 a 1 dopo 5 minuti di recupero con amarezza tra i biancorossi e gioia per i rosso-verdi. Terrenova Traiana che ottiene il settimo pareggio stagionale. Quinto fra le Muramiche con l'ultima vittoria al Matteini datata 26 novembre nel 2 a 1 contro il Palazzolo. Contro il Pontasieme per il Palazzolo. Terzo risultato utile consecutivo. Conquista la formazione fiorentina l'ottavo pareggio stagionale. Terzo esterno e resta dentro la forbice con 8 punti di ritardo proprio dai terranovesi. Biancorossi attesi domenica prossima da un altro sconto diretto. Questa volta in quella di Cortona. Match interno per l'Olimpia-Palazzolo contro il Bibbiena. Mister Andrea Attili, uno sconto diretto e un pareggio che lascia forse troppo amaro in bocca. Sì, una volta in vantaggio abbiamo avuto l'occasione di poterla chiudere. Lì dovevamo essere un pochino più lucidi, più cattivi per poter chiudere la gara dove il Palazzolo stava concedendo qualcosa. Poi in queste categorie a volte basta poco e le partite si possono riaprire. Peccato. È un campo difficile, un buon primo tempo, un buon possesso palla. Poi una volta in vantaggio sembrava quasi fatta. Avete assicurato anche il 2-0. Poi da ultimo c'era anche la possibilità della beffa. A volte da vincere poi anche perdere. Sì, voglio fare complimenti ai ragazzi perché comunque vi avevo chiesto di provare a giocare con il possesso e cercare di fare la partita anche in un campo come avete visto quasi ai limiti della praticabilità. Siamo stati capaci di provare ad imbastire azioni buone spostando bene la palla da destra verso sinistra e viceversa. Purtroppo l'abbiamo fatto il 2-0. Poi una volta la partita in pareggio ci può stare anche merito della beffa. Credo che poi alla fine siamo stati bravi a rimanere comunque lucidi e portare a casa il punto. L'undicesimo posto, quello che varrebbe la salvezza diretta, si allontana. Non basta più una vittoria, sono 4 i punti adesso per arrivare alla salvezza diretta anche se con 9 giornate e 27 punti a disposizione tutto è ancora possibile. Certo, noi dobbiamo ora essere più sereni di prima nel senso che dobbiamo viverla veramente gara dopo gara senza pensare a quelli che sono i punti che mancano ma avere voglia partita dopo partita di ricercare la prestazione tramite la quale raggiungere il risultato. Questa è una società che negli ultimi sei anni è sempre stata abituata a navigare in classifiche medio-alte e quest'anno c'è da soffrire quindi dobbiamo essere bravi, rimboccarsi le mani, stare sereni e dare tutto. Questa è la cosa più importante. Non si parla mai dei singoli però quest'oggi una parola su Francini. Belli rispunti del numero 9 bianco-rosso quest'oggi. Sì, Leo è un giocatore importante, ha delle caratteristiche veramente da giocatore. Deve capire di mettersi più a disposizione della squadra però già dall'inizio dell'anno, anzi dall'anno scorso, è migliorato molto. Deve lavorare perché secondo me ha un buon futuro questo ragazzo. Perso a Montessanzavino, pareggiato quest'oggi. Domenica, un altro scontro diretto a Cortona che ieri ha perso a Fugliano. È un'altra partita difficilissima dove Cortona credo sia la prima sconfitta dopo cinque gare utili e onsevutive. Quindi sarà uno scontro da affrontare con i nervi saldi e essere sereni e cercare di fare il nostro gioco. Mister Gabriele Vincivenni, un ottimo 1-1. Assolutamente sì. Per come è venuto, soprattutto perché abbiamo avuto una grande reazione e soprattutto perché, visti anche i risultati degli altri, ci permette di continuare a lottare e sperare step dopo step. Ma in questo momento per noi l'obiettivo è rimanere dentro la zona play-out, evitando l'ultimo posto. E quindi è un punto importantissimo, anche perché giocando contro una concorrente, che in questo momento è invischiata nelle zone calde, insomma. Primo tempo al piccolo trotto, su un campo veramente limite della impraticabilità. Siete andati sotto, siete riusciti a ribaltarla, anzi avete anche rischiato di portarla a casa al bottino pieno. Sì, è una prima frazione di gioco, secondo me, dove ci siamo equivalzi, anzi abbiamo avuto anche un paio di occasioni, noi per andare in vantaggio, nonostante la terrenova traiana ha avuto quasi sempre il possesso della palla. Poi nel secondo tempo non siamo rientrati in campo, purtroppo perdite un quarto d'ora in cui abbiamo subito. Poi anche i cambi, i ragazzi sono entrati in campo, hanno dato nuova linfa e a quel punto dopo il pareggio i ragazzi ci credevano, io stesso ci credevo, perché il terrenova era netta di fiotta. Sì, abbiamo rischiato anche di in vincere, però insomma, tutto sommato, credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Campionato strano, domenica, arriva il Bibiena, ci sarà ancora da lottare, ci sarà da farlo ancora fino al 7 di maggio. È un campionato stranissimo, perché se guardi tutte le classifiche di tutta la Toscana, credo sia la testa della classifica più bassa in assoluto, è una classifica cortissima, anche se oggi forse con qualche risultato nei bassi fondi si è un po' dilatata, ora non l'ho vista a giornata, ma insomma credo che Petteranova stesso si sta mettendo o no come era previsto. Per cui è un campionato strano, però noi veniamo da tre risultati utili consecutivi, ce la siamo giocata alla pari con Firenze-Ovest, anzi abbiamo vinto, abbiamo giocato alla pari contro la prima classifica Proto-Vecchio, per cui un campionato strano, però dall'altra parte è il girovescio della medaglia che ti permette di giocare alla pari contro chiunque. Domenica il Bibiena però. Sì, Bibiena è una squadra molto difficile da affrontare, è una squadra fisica, una squadra tosta da categoria, è un giocatore importante, però va affrontata come tutte le partite, anche se è molto difficile, non ci tireremo indietro, lo affronteremo a viso aperto. Ultima domanda, primo anno per l'Olimpia Palazzolo in promozione, l'obiettivo ovviamente sono i play-out, sarebbe sicuramente la vittoria? Primo anno per il Palazzolo, primo anno per me, da allenatore in promozione, e quindi vista anche la difficoltà di quest'anno in questo girone, sì, l'obiettivo era già ad inizio anno evitare l'ultimo posto, rientrare dentro play-out, e quindi vista anche la situazione attuale, ancora a maggior ragione, ci crediamo e contiamo da arrivarci. Buca lupo, ciao misterio.